Allora, io l'unica cosa che posso fare è se avete un calmante e farei una piccola punturina. No, una punturina no, sarò bravo. Allora, bisogna essere ragionevoli però, eh. Sarò bravo, vedete, la punturina no. Bene, allora, se vado inizialmente, io me ne andrò. Sì, però mi raccomando domande di fuori a degli uffici, che nemmeno puoi cercare. Sì, grazie. L'indifferenza è la cosa più brutta che ci sia, signor Renato Vallo. Sono troversi del suo momento, mi sono rovinato la salute. Però non essi che diretti ci varie, tu, niente. Non c'è, 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 non c'è.